In queste ore convulse con lo spread della borsa sull'ottovolante, le imprese artigiane padovane si rimboccano le maniche per trovare strumenti per superare le crescenti difficoltà di accesso al credito. CNA Padova e Unicredit hanno sottoscritto insieme un programma di sostegno che si affianca all'attività del Consorzio Garanzia FI di sviluppo artigiano ed utilizza lo strumento del microcredito soprattutto a favore delle piccole imprese, le start-up e le nuove attività, con un interessante capitolo che riguarda le famiglie che hanno in progetto lavori sull'abitazione. È un'interfaccia diretta con le imprese, parliamo di due tagli, uno piccolo per il microcredito con garanzie relative, per cui di facile accesso e uno più strutturato per quanto riguarda le aziende più strutturate che vogliono fare innovazione, il famoso 4.0. Noi abbiamo erogato in passato con sviluppo artigiano e garanzie su crediti per quasi 900 milioni di euro a circa 80.000 imprese. Qual è il quadro del credito nella provincia di Padova? Siamo in salute o ci sono delle difficoltà? Ci sono delle difficoltà per le imprese in realtà perché i dati che noi abbiamo elaborato ci dicono che negli ultimi due anni i depositi sono aumentati, sono aumentati anche molto, di più il 12%, quindi vuol dire che c'è liquidità, c'è ricchezza che viene in qualche modo accumulata e messa da parte. Questa ricchezza però non si trasferisce al sistema delle imprese, ancora no, perché gli impieghi verso le imprese nello stesso periodo di tempo sono calati dell'11%, le sofferenze si sono ridotte di quasi il 20%, quindi una percentuale importante, le aziende quindi stanno tornando ad essere in salute, però è evidente che la necessità in qualche modo di accedere al credito è ancora un elemento fondamentale per lo sviluppo delle imprese e del territorio. Cosa blocca questo accesso al credito? La preoccupazione complessiva del sistema, quello che sta accadendo anche a livello nazionale, ci dà degli indicatori molto chiari insomma di quali sono ancora le difficoltà che oggi si incontrano. La prima cosa da dire è che c'è una netta decorrelazione tra quello che sta succedendo nei mercati e quello che è l'economia reale e questi pochi giorni creano sicuramente incertezza, possono avere soprattutto strasciare dal tempo un impatto sulla fiducia, ma siamo convinti che la situazione attuale permane positiva e dunque siamo anche fiduciosi rispetto ai prossimi mesi. Cosa vi aspettate? La situazione in generale sembra preoccupante. Ci aspettiamo che il buonsenso provaga perché questo è un paese dove il manifatturiero è stato attraino di tutta un'economia, che piaccia o no, per fare il manifatturiero ci vogliono programmi a lungo termine, mai a breve termine, non si inventa nulla dall'oggi a domani. Per cui prima chiudono, meglio è.